Duccio Facchini e Luca Martinelli hanno curato per Altra Economia un dossier uscito nell'estate del 2019 quanto impatta il traffico aereo sull'ambiente, sulle emissioni di arite carbonica e quindi sul clima. Con Luca abbiamo curato questo approfondimento per il numero di luglio-agosto della rivista dove abbiamo cercato di mettere insieme due elementi che già naturalmente stanno affiancati da un lato l'esplosione dell'industria turistica la quale negli ultimi 25 anni ha fatto registrare percentuali di crescita sia in termini di persone che si spostano sia in termini economici del valore acquisito da questa industria quindi stiamo parlando di 1,4 miliardi di persone in termini di arrivi nel 2018 dati Nazioni Unite l'esplosione dell'industria turistica con accanto l'esplosione dell'industria del trasporto aereo e dell'aviazione 6 persone su 10 che si muovono per motivi turistici lo fanno in aereo poi il resto se lo dividono strade, navi e pochissimo l'infrastruttura ferroviaria che è tutto un altro tema il trasporto aereo è su tutti la forma di movimento più impattante sul clima e non soltanto per le emissioni di CO2 le più rilevanti e le più impressionanti considerate che il settore nel 2018 pesa per 900 milioni di tonnellate di CO2 ma anche per tutta una serie di gas clima alteranti dovuti agli aerei che girano in volo la riflessione che abbiamo proposto sulla rivista è non solo un'analisi dello stato di fatto ma anche cercare di interrogarci su quelli che sono le cause di questa esplosione una di queste, probabilmente la più importante, la più rilevante sono le condizioni sempre più favorevoli, apparentemente favorevoli per i viaggiatori di poter accedere a questa forma di trasporto per cui per noi è più conveniente oggi andare a Berlino con un volo low cost di una compagnia irlandese domiciliata in un paese a fiscalità agevolata piuttosto che prendere il treno questo come è possibile, rimando all'approfondimento accenno soltanto al tema ad esempio della sostanziale detassazione del settore penso alla questione del cherosene che è il combustibile fossile che fa viaggiare gli aerei penso ad esempio a livello europeo alla totale assenza dell'imposta sul valore aggiunto quindi se voi prendete un biglietto del treno, freccia rossa per non fare nomi per andare da una parte o dall'altra quel biglietto comprende l'IVA cosa che nel caso del biglietto aereo non accade e questo influisce non poco insieme a tutti altri tipi di sussidi più o meno travestiti di cui il settore beneficia quindi tutto questo pacchetto produce l'esplosione l'incremento incredibile a cui siamo ormai esposti di cui anche noi siamo protagonisti e che ha dei riflessi importanti sul pianeta e sul nostro ecosistema